300 immigrati ospiti del centro di accoglienza Sant'Anna per richiedenti asilo bloccano la statale 106. Motivo della protesta? I ritardi del rilascio dei documenti per il visto, ma non solo. Gli immigrati pretendono il collegamento a internet all'interno della struttura e denaro contante al posto del buono giornaliero. Problemi dentro non mangiare buono, no soldi, pocket money, no passaporto, tutti negativi. Questa è solo l'ultima manifestazione messa in atto dagli immigrati del centro d'accoglienza. Problema, soldi, pocket money, io sono qua sei mesi, no soldi, 2,50 euro, sei mesi, no.